Il maggior amore possibile. Punto F attraverso Francesca R 3 marzo 2024 a cura di VB Chiunque, un amico, un partner, un marito, moglie, amante, figlio, figlia, padre, madre, qualunque tipo di amore. L'amore non è mai egoico. Il maggior amore possibile è lasciare che ognuno sia libero di fare il proprio cammino. Non puoi vivere per gli altri. Puoi solo fare una cosa. Vedi, perciò che siete, anche nella limitazione incarnativa del piano di esistenza al quale appartenete, vi è possibile trasmettere la vibrazione dell'amore per cambiare la creazione e percezione di tutto ciò che vi circonda. Questo non muterà sostanzialmente un effetto o una causa che sono necessarie da vivere, ma aiuterà a intraprendere il corretto cammino con amore che permette all'ego di ridursi più facilmente. Questo lo puoi fare. Questo lo potete fare. Non siete di bassa evoluzione, quindi iniziare a emanare la capacità vibratoria amore è parte del vostro raggiungimento evolutivo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti